Che non c'è più un italiano che mena, andiamo in Svezia e ci menano, e il calcio italiano è finito, usciamo anche da sto mondiale, per paura, siamo in Svezia e abbiamo avuto paura, le primavere sono fatte tutte a stranieri, basta, e il calcio è fatta agli italiani, questo è il campionato italiano, se non no, fra il campionato europeo e il mondiale. Ma non strappi agli italiani nei campionati Serie D e Serie C, dategli l'opportunità, vedete quelli come sono, se noi mettiamo una squadra di Lega Pro contro la Svezia, vincevamo, vincevamo perché la Svezia vale una squadra di Lega Pro, di Lega Pro.